Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Dictatori spend wealth on a violent and unstable world. This is how they stay in power, by corrupting. But their missiles don't speak the language of a new generation, who are willing to give their lives for freedom. So what do they do? They built jails, and a lot of them. And they filled them up with the future. And every morning, when the call to prayer comes, their hearts begin to race, because they want to know, who is next to be executed? And what will they even be charged with? Corruption on Earth. Corruption on Earth. That's the obscure religious term that the mullahs are manipulating to crush freedom fighters. And while they're setting our world on fire, they execute our kids just for setting a garbage can on fire. This is exactly how dictators corrupt nations. But now they've never been more afraid. School girls are rising. Warriors are fighting back. And a new Iran is coming. And they know it. This week is coming. You can reach the end. That's it. This week is coming. ancora per per questa settimana poi insomma lo riprenderemo però è stata una settimana importante e soprattutto dire ne dico subito una cosa in tutta la settimana quando abbiamo fatto vedere queste clip io ho sempre guardato il loro loro volti che che non guardano quelle immagini come le guardiamo per carità con con partecipazione noi ma è proprio una sofferenza dentro che immediatamente arriva sul loro volto perché è qualcosa che il pedran di ci diceva prima io pensavo a cosa poter raccontare oggi dico questo dico quell'altro cos'è che può far più presa perché tu giustamente dicevi non so se si capisce se si sta capendo che cosa stiamo passando sicuramente i messaggi che passano al ai vostri aspettatori sicuramente incide serve ok ma come dicevo prima non non per noi iraniani è difficile trovare l'argomento giusto da dire in quel in quell'attimo perché ce ne sono molte molte argomentazioni ci sono molte cose da dire non basterebbero giornate intere per raccontare e passare l'effetto al a chi ascolta e quale per quale motivo stiamo qui c'è il la repubblica islamica è una repubblica di orrore di impiccagioni di fosse comuni di di sono contro la bellezza ecco quando noi diciamo donna vita e libertà il nostro slogan perché loro e il significato è proprio è stato studiato per esprimere quello che quello che loro di cui la repubblica islamica è contro le donne vita libertà e la bellezza per loro sono stavo pensando per esempio vorrei condividere con voi un racconto l'ultima volta che sono andato in iran damaschio che devo fare sono obbligato a fare la leva militare di cui non ho fatto e dovevo mettere un timbro sul mio passaporto per poter poi andare in iran e torna essere ospite nella mia nazione avevo dimenticato questo pensavo che la scadenza fosse con la scadenza del mio passaporto invece non era così ogni volta che andavo dovevo fare questo visto non è un permesso sono andato in iran io andando di il polizia che controllava il mio passaporto guarda questo è scaduto devi rifarlo con i toni peggiori che un della polizia possa rivolgersi a un cittadino vado vado in iran al ministero e sono andato in in giacca e cravatta e come il mio solito io mi vesto così cioè nel senso è il mio modo di vestire chi mi conosce lo sa il primo quando sono arrivato non mi ascoltavano non mi davano retta non cercavano di gettarmi le cose no guarda non si può torna un'altra volta la volta successiva consigliato da mio zio sono andato con vestiti anche un po anche malandati malandati i capelli non fatti la barba un po cresciuta e mi hanno e la l'atteggiamento è stato giorno e notte perché loro sono contro 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 la bellezza contro adesso non che io sia c'è dico il modo di vestirsi insomma perché ce l'hanno con le donne fateci caso quelle le persone a cui hanno sparato sono sono tutte belle persone sono tutte persone le ragazze i maschi le donne che sono a cui hanno sparato sono tutte belle persone ecco perché sono loro sono contro la la bellezza anche la natura sta soffrendo sono tanti anni che sei in italia sono 20 22 23 anni sì sei giovane però chiedo anche a te che cosa ti ricordi di quando ti svegliavi lì e quel sono la tua giornata che immagino sia molto diversa da quelle di oggi no molto diverso molto diverso quel sono che non dimenticherò mai non che io sia contro la religione quel sono della moschea che ogni mattina che oggi crea terrore perché non vorremmo ascoltare quel sono perché prima di quel sono impiccano qualcuno e quel quel sono era era non era piacevole era fastidioso fastidioso per me io in nella scuola una volta dove era la preghiera era obbligatorio non ho voluto pregare per una mia scelta ma ripeto non ho nulla contro chi ha voglia vuole essere credente io non volevo pregare sono stato picchiato per ore per ore tanto è che mio padre ha dovuto andare in iran sia dovuto andare nella scuola dire ragazzi perché perché state facendo questo era era rimane avevo il lato destro della faccia gonfio per quanti schiaffi avevo ricevuto e questo è la realtà dell'iran la dura realtà e come ho detto prima le cose peggiorano ogni anno in anno e le persone aggiungiamo la questione economica aggiungiamo la questione la corruzione tutto quanto le persone non ce la fanno più molte persone dicono ma si fermerà non può fermarsi e la repubblica islamica io sono in contatto per i social su instagram per esempio con molte persone in iran quello che dicono loro vedono già la repubblica islamica terminata sì sono loro sono convinti sono persone che stanno lì che vedono un già oltre oltre la repubblica islamica ecco ecco perché voi siete andati Irene ieri proprio dal sottosegretario stellari no perché siamo andati per capire a che punto era la commissione sui crimini internazionali commissione che ha l'obiettivo di stilare un codice per punire appunto questi crimini e era iniziata nella passata legislatura e quindi volevamo capire se in questo momento visto anche l'urgenza su quanto accade in ira in ucraina eccetera e il sottosegretario ci ha rassicurato dicendoci che il ministro nordio ha avviato un ulteriore tavolo per diciamo curare alcuni aspetti tecnici ma entro marzo la commissione dovrà verrà sicuramente istituita e quindi crediamo che questo sia un aspetto importante un qualcosa di importante naturalmente non basta questo proprio oggi il ministro degli esseri iraniano ha dichiarato che chiunque partecipi alle proteste fuori dall'iran sarà severamente punito abbiamo visto che cosa significa per il regime iraniano punire queste persone c'è una violenza appunto che ce lo raccontava pedram non ha pari ora in questi giorni lo abbiamo detto anche ieri hanno minacciato anche gli europarlamentari compresa le europarlamentari italiane ho letto salvini ieri si lamentava che non c'è un'unione della politica della sinistra su questo tema però io credo che anche il ministro salvini dal momento che sta in maggioranza potrebbe magari farsi promotore a questo punto di quello che è il punto più importante cioè inserire i pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche quindi io credo che se ci fosse da parte anche della politica italiana un'unione su questo sarebbe buono per tutti come dicevi tu è molto emotivamente molto forte stare vicino a questi ragazzi io l'ho vissuto nelle varie cose che in questi mesi ho fatto con loro devo dire la prima ragazza di lunedì aveva difficoltà a guardare la clip che passava sì sì c'è tutto il loro dolore la loro paura anche perché stamattina proprio una ragazza che è stata qui in questi giorni che mi ha mandato la notizia del ministro dell'informazione iraniana che appunto minaccia in qualche modo i manifestanti eccetera mi ha detto io paura mi ha scritto io paura e allora credo che anche su questo si diano da fare anche per i visti come dicevamo no evitiamo che questi ragazzi vadano nelle ambasciate tu hai paura pedra io sono stato anche minacciato telefonicamente la polizia è a corrente ma non non ho paura no no perché la paura esiste è umano è il lato umano deve essere deve esserci e la nostra è la nostra fa parte della nostra esistenza ma non non mi sembra che avendo c'è con quello che fanno loro loro nutrono di questo no cioè metterti il terrore il terrore per poi fare ciò che vogliono fare e se dovessimo avere paura che abbiamo c'è questa cosa continua questo ciclo e continua noi dobbiamo fermare ci devono essere più persone a che lo vediamo esistono a dire ba cioè dobbiamo finire con la repubblica islamica oggi riformista riporta l'appello di assan firosi 34 anni arrestato in iran per aver partecipato alle proteste che dice fatemi vedere mia figlia per l'ultima volta perché so che mi impiccheranno è stato torturato sarà giustiziato poi questa cosa no sarà giustiziato appena guarito dalle ferite che c'è che è la crudeltà nella nella crudeltà e insomma come lui anche anche altri c'è qualcosa c'è un appello in questo caso si parla di un appello all'onu si stanno facendo tanti appelli all'onu perché anche l'onu devo dire finora non ha fatto grandi interventi su questa questione quindi è infatti proprio l'appello che facevo i giorni scorsi quello di trovare degli avvocati internazionalisti che riescano ad attivare queste giurisdizioni sovranazionali proprio per attivare in qualche modo anche anche sulla convenzione di ginevra no a difesa dei diritti umani c'è c'è pochissimo poco si sta muovendo a noi abbiamo cercato di smuoverlo in questa settimana naturalmente torneremo a parlarne noi ci siamo pedram grazie grazie per quello che è stato facendo ci siamo insomma ne riparliamo sicuramente avanti grazie grazie a voi per essere stati qui e per averci messo la faccia non è semplice non è affatto semplice non è perché stanno in italia insomma è una situazione complicata anche per loro grazie a irene testa grazie a pedram adesso c'è andrea pancani un pochino in ritardo scusami andrea con coffee break